Un'entrivista veloce con uno dei giocatori nuovi di questo caeta, la partita è andata sul verso giusto, tu sei stato quello che ha segnato il terzo gol e quindi si è scivolato sulla positività del termine della gara. Com'è andata questa parte di gara per te? Sono contento perché innanzitutto a parte il gol, sono contento che abbiamo fatto questa vittoria che ci serviva per dare una grande scossa anche tra di noi. E niente, abbiamo fatto un grande risultato e adesso ci aspetta l'Atletico Pontinia che sarà una grande sfida. Come viste questo Montesambiaggio imbattito di giovani? Il Montesambiaggio sono tanti ragazzi giovani, giocano, corrono, devi stare attento e devi approcciarla forte queste partite. D'accordo, allora appuntamento domenica per questo big match con l'Atletico Pontinia sarà sicuramente non facilissimo e bisogna comunque proseguire con la possibilità, giusto? Sì, giusto, giusto. E niente, ci vedremo domenica e speriamo di fare come oggi. Taccolati in bocca al lupo. Crepi.